ciao a tutti sono sempre greg e questo è il mio canale in genere horror come sapete a volte mi capita di sconfinare volentieri nella fantascienza in altri generi e nello specifico in questo caso nella fantascienza e l'ho fatto per andare al cinema a vedere avatar il seguito avatar 2 la via dell'acqua cosa mi porta a casa di questo film mi porta a casa un'esperienza che volevo vivere un'esperienza che aveva delle premesse importanti e le dichiarazioni roboanti le dichiarazioni degli autori del film di james cameron stesso che aveva invitato ad andare in sala a vedere il film perché la sala la voleva di nuovo al centro della del progetto cinema visto che ormai le piattaforme streaming tante volte portano via spazio e tempo agli spettatori che si concentrano forse un po troppo in quello che è il piccolo schermo quando il grande schermo dovrebbe dare prima di tutto le prime emozioni per poi ritornare magari a vedere il film anche in streaming su questo io sono pienamente d'accordo io sono sempre il primo a dire e a dirvi andate al cinema a vedere un film e poi per carità se esce solo in streaming va bene ma se c'è in sala andate a vederlo brutto bello che sia un film è stato fatto per essere concepito come visione in sala e su grande schermo è a maggior ragione questo film che è all'avanguardia dichiarato dagli autori stessi all'avanguardia per gli effetti speciali ed è il massimo che si può ad oggi vedere a livello visivo a livello di effetti speciali questo mi aspettavo e questo effettivamente ho trovato ho trovato questo me lo sono goduto perché è un piacere a livello visivo è un piacere essere immersi in questa avventura in questi effetti speciali che non sono fini a se stesso ma ne parleremo adesso non sono effetti speciali tanto come esibizione assoluta ma sono anche funzionali al film lo vedremo nello specifico fra un attimo anche perché non tutta la durata del film secondo me eccessiva è caratterizzata da effetti speciali e cinema puro e narrazione che vanno perfettamente a bracetto ma andiamo con ordine e cerco di spiegarmi spiegare un po questa mia questa mia idea beh la storia probabilmente la sapete già molti di voi avranno già visto il film chi non l'ha già visto in poche parole abbiamo jake nei tiri che hanno messo su famiglia che hanno tre figli più una quarta adottata che devono lasciare però il luogo e la tribù dove vivono per diciamo salvaguardare la vita dei loro amici si spostano verso il mare incontreranno una nuova popolazione del mare simile ma diversa quindi diciamo l'integrazione che dovranno loro cercare di avere con questa nuova con questo nuovo gruppo di di abitanti di un elemento acquatico che per i nostri protagonisti non è poi così banale devono prendere veramente confidenza con questo elemento acquatico e poi l'evoluzione della della storia che ovviamente si protrarrà fino allo scontro all'resa dei conti e lo scontro con il nemico quoric che ritorna come avatar e insomma non vorrei parlare troppo della storia perché la storia è abbastanza semplice quindi godetevela se avete visto il film la conoscete a meno a dito godetevela al cinema perché è semplice è semplice anche se però vengono affrontati dei temi secondo me importanti vengono affrontati temi sempre legati al fatto che la natura non dovrebbe essere sfruttata o distrutta come effettivamente vuole fare l'essere umano che qui è la parte fa la parte del cattivo siamo noi siamo noi cattivi che stiamo invadendo un nuovo mondo perché servono delle risorse fondamentali per il nostro pianeta che ormai è completamente esaurito ormai è stato completamente sfruttato e distrutto da un punto di vista da questo punto di vista c'è l'aspetto della dell'integrazione e della migrazione di una di persone che devono spostarsi alla ricerca di altre situazioni in cui vivere e quindi il concetto della migrazione il concetto della dell'essere accettati link le incompressioni iniziali c'è il concetto di famiglia anche se qui secondo me è un po debole il concetto di famiglia quindi i figli dei nostri due protagonisti jake nei tiri le incompressioni con i genitori il figlio adolescente che ha un po più di problemi perché vorrebbe fare a troppo entusiasmo lo porta a fare degli errori a mettersi nel pericolo anche se poi la sua disobbedienza sarà fondamentale per l'aiuto finale vabbè adesso fermiamoci appunto la storia non la voglio raccontare però diciamo l'aspetto della famiglia dei figli la crescita dei figli il rapporto con i genitori secondo me lì è un po deboluccia è un qualcosa di già visto e forse un po tirato soprattutto perché tanta tanta intensità e profondità nei personaggi non l'ho vista ho visto dei concetti portati avanti come già nel primo film visto concetti portati avanti anche nel secondo appunto quelli legati soprattutto a all'ambiente a come l'ambiente dovrebbe non essere distrutto dai nuovi invasori da chi non dovrebbe essere lì da chi è lì solo per degli interessi e vuole distruggere la popolazione che trova per per i propri interessi e per far sopravvivere un pianeta che sta man mano distruggendo e che ha distrutto nel corso nel corso della storia ci sono non metto un dubbio questi elementi qui che si perdono però in un film che è innanzitutto secondo me troppo lungo sapete che io sono contrario dei film che hanno una durata eccessiva qui siamo a tre ore e dieci minuti lo so che potrebbe anche esserci molto da raccontare a livello visivo perché a livello di narrazione secondo me non c'è la necessità pari tre ore e dieci minuti ma il voler raccontare a livello visivo troppe cose parlo soprattutto del secondo atto il film è diviso nettamente in tre atti il primo dove ancora Jake nei tiri sono dove dovrebbero essere insieme ai loro amici insieme alle persone con cui vogliono continuare a vivere il secondo atto dove sono costretti ad andarsene per salvaguardare per salvare i loro amici perché perché Jake lo stanno cercando Quoric lo sta cercando quindi fuggono e si nascondono presso questa nuova questa questa nuova tribù che vive nel mare vive con contatto con l'acqua questo secondo atto è veramente troppo lungo io capisco che bisognava descrivere l'aspetto dell'ambientamento e come i nostri protagonisti devono adattarsi a un elemento che non conoscono e a convivere con persone che hanno abitudini diverse e modi di vivere diverso diversi e soprattutto sono degli estrani in quel momento sono delle persone che potrebbero portare guai però il secondo atto veramente troppo lungo e ci porta ad un terzo atto che è quello che di solito a me annoia di più in genere di film che è quello puramente basato sull'azione sul combattimento che però qui mi ha lasciato a bocca aperta io qui devo dire che quello che mi preoccupava di più di un film così lungo era che il film fosse troppo condito a un certo punto da combattimenti e momenti di azione pura che invece sono la parte forte del film perché qui si vede come gli effetti speciali d'avanguardia gli effetti speciali al massimo dell'espressione tecnologica che possiamo concepire oggi che una grossa produzione cinematografica può concepire oggi questi effetti speciali sono stati ben utilizzati e governati da James Cameron che in cabina di regia ha dato una prova mostruosa parlo del terzo atto perché riesce ad utilizzare a rendere a rendere gli effetti speciali veramente parte integrante del film e della narrazione in quel momento cioè l'azione e il combattimento vengono accompagnati dagli effetti speciali funzionali al massimo mai mai non è la prima volta ma è uno di pochi casi in cui finalmente si vede un film con gli effetti speciali che la fanno che dominano perché perché si parla ovviamente di questo film come del film con i migliori effetti speciali che si possono vedere quindi è inutile tante persone vanno a vederlo per questo motivo ma ad un certo punto la narrazione viene accompagnata da degli effetti speciali che diventano un tutt'uno con la la situazione che viene narrata e con la messa in scena grazie ad una regia in un montaggio strepitosi veramente strepitosi qui i complimenti non sono nessuno per fare i complimenti a James Cameron perché sappiamo che sa fare questi film ma in un momento storico in cui i film d'azione i film fantasy o fantascienza i film con personaggi che si picchiano in mezzo ad effetti speciali strabilianti ce ne sono molti e in un momento storico in cui tanti film sono confusi confusionari dove le scene d'azione non sono dirette bene da registi che non sono in grado di dirigere scene d'azione con troppi effetti speciali e le eccezioni sono poche ecco che abbiamo James Cameron che che sembra dire ci penso io un James Cameron che ha pensato bene di aspettare più di dieci anni per ben più di dieci anni il primo fine del 2009 per portare in finalmente il seguito perché lo voleva portare quando sapeva di essere in grado di poter fare un certo tipo di cinema un certo tipo di film un nuovo blockbuster che è un vecchio blockbuster alla vecchia maniera finalmente senza scene post credit finalmente senza tutte quelle quelle situazioni quegli effetti speciali sparati con con un montaggio frenetico che sembra voler dare la misura di quanto un regista sia bravo a mettere in scena un film d'azione di fantascienza questa volta no questa volta c'è un tentativo finalmente di utilizzare l'effetto speciale come deve essere utilizzato è in grado di farlo anche Spielberg lo ha dimostrato anche Spielberg in recenti sue produzioni fantascientifiche però diciamo sono pochi i registi che riescono veramente a tenere a freno tutta quella paccata di milioni di dollari che gli vengono dati per fare questi film qui è difficile dirigere un film è difficile tutti vorrebbero dirigere un film da 300 400 milioni di dollari di budget però capiamoci è difficile non risultare poi venire fuori poi con un film che è tutto effetti e niente sostanza ora che ci sia tanta sostanza e tutta sostanza in questo film no perché come ho detto secondo me c'è una parte centrale troppo dilatata e ci sono dei personaggi che non hanno lo spessore che mi aspettavo avessero mi aspettavo maggiore spessore nei personaggi mi aspettavo maggiore intensità nel vedere la storia i rapporti in famiglia extra familiari con gli amici con le persone che stanno attorno con le nuove con gli incontri nuovi che i nostri personaggi dovranno avere per adattarsi ad un nuovo ambiente per fuggire da un nemico che incombe che incomberà presto però ci sono degli elementi molto interessanti qui si parla di un film che mette da una parte quelle che sono le diverse specie o meglio le distingue perché c'è l'essere umano che è quello cattivo che sta arrivando sul pianeta pandora per portare avanti il suo progetto che è misto a distruzione e sfruttamento delle risorse del pianeta c'è anche l'elemento degli abitanti indigeni di questo pianeta con tribù diverse quindi differenze anche l'interno tra di loro e quindi la difficoltà di integrazione quando un gruppo si mescola ad un altro ma c'è anche l'aspetto legato alle creature del mare i tulkun questi grossissimi similcetaci simibalene dall'intelligenza incredibile molto più intelligenti viene detto da un essere umano stesso molto più intelligenti dell'essere umano hanno un cervello talmente profondo talmente un'intelligenza talmente grande che che fa quasi impallidire quella di un essere umano e per questo verranno anche sfruttati ovviamente dall'uomo e ci sono degli elementi che mettono che pongono le basi per per fare un film emotivamente molto coinvolgente però l'aspetto emotivamente coinvolgente non ha avuto non ha sortito grandissimo effetto nei miei confronti personalmente ci sono momenti di larità ci sono momenti di tristezza ci sono momenti di commozione ma sono all'interno di una narrazione che ho visto non so se troppo semplice o meglio semplicistica perché si parte sempre da una trama semplice per fare anche un grande film ma poi bisogna approfondirla poi bisogna approfondirla dando appunto profondità ai personaggi profondità alle parole profondità ai dialoghi mi è mancato qualche dialogo anzi qualche dialogo l'ho trovato un po un po fuori le righe qualche momento l'ho trovato un po fuori fuoco sempre sto parlando della parte narrata raccontata e dialogata del film che è quella che un po mi ha deluso non mi ha deluso come ho detto la spettacolarità e la messa in scena la regia il montaggio di un film strepitoso però è chiaro io parto sempre dal presupposto che non serve secondo me fare e produrre un film da tre ore dieci per raccontare una storia bella profonda con elementi profondi come ho accennato prima la parte ambientale ed ecologica la parte della migrazione l'accettazione tra gruppi diversi di esseri umani di umanoidi di quello che volete voi è l'amicizia la crescita il rapporto genitori e figli il rapporto con gli animali in questo caso con le creature del mare ci sono tanti elementi il quasi voler appiattire quella che è la distinzione tra specie se non caratterizzare il fatto che ci sono comunque anche i cattivi perché gli esseri umani sono quelli cattivi ma è questo che che viene e che viene che distingue un po una situazione dove però a livello di intelligenza mi sembra che qui siamo tutti in linea di massima si parte come si parte tutti sullo stesso piano poi l'intelligenza se viene utilizzata bene o male si diventa più o meno cattivi più o meno gli invasori che distruggono tutto o quelli che invece vogliono salvaguardare l'ambiente però diciamo nonostante questo io sostengo che il film mi abbia deluso sull'aspetto della profondità dei personaggi e su una narrazione che a un certo punto ho trovato un po' banalotta perché si ritorna sempre sul concetto il figlio che disobbidisce al padre ma poi quando disobbidisce nel momento decisivo è il momento importante per cui c'è la svolta positiva troppo già visto rivisto e scontato perché alla fine durante questi momenti io mi sono un po' annoiato soprattutto perché appunto la parte centrale è molto 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 lunga nel complesso il film è tutto molto molto lungo 3 ore 10 faccio sinceramente fatica a digerirli è un problema mio attenzione perché avete tutto il diritto di dire che il film vi è piaciuto tantissimo perché non sono qui a criticare tecnicamente un film sono qui a dire cosa mi è piaciuto di più cosa mi è piaciuto di meno se il film fosse stato e speravo lo fosse un film da due ore 10 due ore un quarto due ore 20 probabilmente lo avrei mi avrebbe dato anche ancora di più perché se tutti quegli elementi che mi hanno deluso perché non approfonditi fossero stati tagliati in sede di montaggio allora era una scelta di montaggio allora diventava qualcosa di diverso ma se i minuti passano e non trovo profondità di personaggi a quel punto trovo quei minuti non solo eccessivi ma inutili trovo quei minuti noiosi ecco quindi che mi sarebbe piaciuto non annoiarmi mai nel corso di tre ore e dieci minuti poi ripeto ci saranno molti di voi che diranno che non hanno trovato un momento di noia è un momento di in cui si sono minimamente staccati emotivamente dal film però è chiaro questa è una cosa abbastanza soggettiva l'immergersi più o meno emotivamente in un film perché perché certe emozioni possono più o meno arrivare in base alla sensibilità che lo stesso regista deve riuscire a scavare dentro lo spettatore a un certo punto tra l'altro James Cameron si autocita si va dalle parti di Titanic a un certo punto si vedono sequenze che sembrano essere le sequenze di Titanic va benissimo ma Titanic visto che l'ho citato e lo cita se lo cita lui stesso cita James Cameron stesso aveva delle componenti emozionali molto più intense a parer mio ovviamente ma questo è una cosa soggettiva potrebbe non essermi arrivato per problemi miei potrebbero potrebbe non essermi arrivato una determinata componente emozionale del film che probabilmente non mi è arrivata perché sono rimasto sono stato distratto da quelle che sono degli elementi che del film di solito non mi piacciono e ripeto è la durata perché se in sede di montaggio questo film diventa un film da due ore e dieci molto probabilmente verrò più coinvolto emotivamente nel film perché quello che accade di positivo di negativo di tragico o di comico lo percepisco probabilmente lo percepirei in maniera molto più diretta improvvisa e buttata in faccia in questa maniera qui mi diventa diluita all'interno di una narrazione troppo lunga che diventa semplicistica perché semplice lo è ma non è un difetto ma è semplicistica poi nello svolgimento e che non mi dà l'effetto emozionale che avrei voluto avere nel film io esco dalla sala sono uscito dalla sala e ho passato la notte sopra prima di parlare di questo video nella speranza che qualcosa mi rimanesse scavato dentro nel profondo come succede in quei film che vogliono comunicare qualcosa ti scavano ti resta dentro anche nei giorni successivi mi resta dentro una grande impatto visivo una grande esperienza visiva soprattutto di un terzo atto che mi è piaciuto tantissimo ma peccato perché il terzo atto è quello legato al combattimento e alle scene d'azione ripeto però i movimenti di macchina gli stacchi i punti macchina la messa in scena l'utilizzo spettacolare degli effetti speciali spettacolari ma l'utilizzo grandioso degli effetti speciali al servizio del cinema d'azione di fantascienza mi hanno lasciato veramente a bocca aperta mi basta questo per poter dire che il film mi ha soddisfatto per quella parte lì peccato per il resto soprattutto per il secondo atto un po' troppo lungo che mi ha dato molto meno se non l'esibizione di tantissimi effetti acquatici dove lì se avete gli occhialetti a 3d se guardate il film in 3d probabilmente sarete ancora più immersi in questa situazione ma ripeto un film deve essere solamente questo un film deve essere tanto altro un film deve avere anche la componente cinematografica deve essere cinema puro questo lo è a pezzi e l'ho gradito a pezzi spero che tutto questo non faccia imbufalire qualcuno di voi che il film l'ho adorato però questa è un po' la mia opinione ed è quello che ho visto ed è quello che ho avuto dalla visione di questo film non ho altro in realtà da dire forse mi sono dilungato un po' troppo forse sono tornato sugli stessi argomenti che ho ripetuti però spero di aver ho cercato di tirar fuori di dirvi quella che è stata le emozioni e le non emozioni che ho avuto durante la visione del film alla prossima